Musica Un nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, la trasmissione che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale. Subito, come di consueto, in apertura i titoli degli argomenti che andremo ad approfondire. Emergenza abitativa, si unanime alla mozione per sostenere famiglie in difficoltà. Arti, via libera al bilancio preventivo 2023. Oblio oncologico, l'aula approva una mozione all'unanimità. Il tema dell'emergenza abitativa torna nell'aula di Palazzo del Pegaso e lo fa attraverso una mozione votata all'unanimità presentata dal consigliere del Partito Democratico, Vincenzo Ceccarelli. Prevedere adeguate risorse nazionali per il sostegno all'affitto, all'amorosità incolpevole e alle ristrutturazioni degli alloggi ERP. Questi gli impegni richiesti nell'atto alla Giunta Toscana affinché si rivolga al Governo nazionale. Una mozione che abbiamo ritenuto doverosa perché in un momento di particolare difficoltà, dopo la pandemia, con l'inflazione a due cifre, con il caro energia che sta minando il bilancio delle famiglie, il Governo nazionale non ha messo nessuna risorsa per quanto riguarda uno strumento fondamentale per intervenire e attenuare il disagio delle famiglie in difficoltà. Vale a dire il Fondo per il contributo affitti che riguarda circa il 20% delle famiglie toscane, il Fondo per quanto riguarda l'amorosità incolpevole, risorse per intervenire nella ristrutturazione degli edifici ERP che si liberano e vanno risistemati prima di essere riattribuiti. E sinceramente non è stato sufficiente il correre ai ripari da parte del Governo con il reddito alimentare, con il bonus bollette, che per carità vanno bene, ma le misure che noi rivendichiamo sono misure essenziali. Tant'è vero che anche le opposizioni poi hanno approvato questa nostra mozione che contiene una richiesta forte nei confronti del Governo di ripristinare risorse ai fini che ho appena enunciato. Accolto un emendamento di Fratelli d'Italia sull'impegno della Regione per ricavare risorse da destinare alla ristrutturazione degli alloggi ERP. Sul tema del contributo affitti è un tema di grande attualità e il Partito Democratico, così come sta accadendo in tutti i consigli comunali, in tutti i consigli regionali, ha presentato la mozione Cina per chiedere al Governo nazionale di rifinanziare il contributo affitti e noi li abbiamo sfidati su questo, li abbiamo sfidati chiedendo quali fossero le loro intenzioni. Se fossero quelli di sostenere la campagna elettorale che Ellis Line sta facendo in tutta Italia sul contributo affitti o se seriamente volevano fare una richiesta al Governo nazionale di finanziare questo fondo. Abbiamo presentato degli emendamenti, in sostanza abbiamo chiesto uno di riconoscere quello che il Governo ha fatto perché è vero che il tema del contributo affitto è importante, va rifinanziato, il Fratelli d'Italia lo sta chiedendo attraverso i propri sindaci, uno su tutti Alessandro Tomasi a Pistoia, di rifinanziare il contributo affitti ma va riconosciuto, se non si vuole fare campagna elettorale, che il Governo ha fatto comunque dei provvedimenti per la lotta alla povertà, la spesa alimentare, il bonus bollette, a fin di riconoscere quello da una parte e dall'altra siccome poi il Partito Democratico ormai li conosciamo, come si dice quando gli dai un dito prendono il braccio e ovviamente nella richiesta di rifinanziare il contributo affitto hanno pensato bene di chiedere al Governo nazionale anche che si accollasse la ristrutturazione di tutto il patrimonio dell'edizia residenziale pubblico toscano che in trent'anni di incurie e di cattive manutenzioni da parte dei loro sindaci oggi va recuperato perché molte di quelle case sono svitte. Noi abbiamo chiesto giustamente che il Governo finanziasse anche questo tipo di intervento ma che su questo tipo di intervento comparticipasse anche la regione toscana. Per quanto riguarda invece la ristrutturazione delle case popolari, intanto dobbiamo partire dal concetto che attraverso il PNRR sono arrivati 93 milioni soltanto per la Toscana dei quali 14 sono stati addirittura spesi per un solo nucleo che riguarda quello a Firenze in via dell'Accademia del Cimento con una spesa per ogni singolo appartamento di 110.000 euro. Ci sembra che sia una spesa decisamente molto elevata anche se si tratta di una ristrutturazione anche antisismica, però con 110.000 euro sicuramente si potevano fare anche appartamenti nuovi. Ma al di là di questo abbiamo letto con piacere la notizia che il sindaco Nardella a Firenze ha investito 8 milioni per ristrutturare 500 appartamenti, dividendo 8 milioni per 500 appartamenti sono 16.000 euro, non credo e non so quale tipo di intervento si possa fare con 16.000 euro in un appartamento se vanno ristrutturati. Per cui mi sembra che sia anche questa una notizia piuttosto più propagandistica che concreta. Non ultimo mi sono permesso tempo addietro proprio in virtù delle difficoltà del dopo Covid e di tutto quello che si sta passando adesso personalmente di aver fatto una richiesta ai nostri parlamentari da portare ai ministri di competenza l'istituzione di un miliardo da destinare non alla ristrutturazione ma alla realizzazione di nuove casse popolari. Noi pensiamo che il tema del contributo agli affitti per la morosità incolpevole sia un tema serio che debba essere affrontato, Fratelli Italia l'ha affrontato nello scorso coordinamento regionale, abbiamo fatto appello ai nostri parlamentari toscani a portare l'attenzione anche del governo. Mi immagino, ci immaginiamo che il Parlamento italiano e il governo se ne occuperà nelle prossime settimane e ci auguriamo che venga ripristinato il fondo per la morosità incolpevole. Al tempo stesso quando si parla di emergenza abitativa non possiamo dimenticarci che in Toscana ci sono circa 3.000 alloggi residenziali pubblici che sono vuoti, non possono essere assegnati perché devono essere ristrutturati e non ci sono i fondi necessari per ristrutturare. Noi pensiamo che potremmo immaginare un riscatto straordinario per chi già vive dal 9-18 anni negli alloggi popolari e con il ricavato di quel riscatto ovvero con la possibilità che una persona che già sta lì dal 9-18 anni possa acquistare quello appartamento, con quel ricavato si possa ristrutturare i 3.000 alloggi già esistenti ma che non possono essere assegnati e così dare una casa a qualche migliaio di cittadini toscani. Via Libera dal Consiglio regionale al bilancio preventivo 2023 di Arti, l'Agenzia Toscana per l'impiego. Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato a maggioranza la proposta di deliberazione con la quale esprime il parere favorevole al bilancio con 19 voti favorevoli Partito Democratico Italia Viva e 7 contrari. Lega, Fratelli d'Italia, Gruppo Misto Toscana domani è stata la Presidente della Commissione Sviluppo Economico Ilaria Bugetti ad illustrare in aula le caratteristiche del bilancio di Arti. Evidenza innanzitutto che c'è un bilancio che cresce di circa il 19% e una grande attività quindi al di là dei numeri di un bilancio in pareggio abbiamo segnalato, la stessa dottoressa Cannoni ci ha raccontato quello che è il lavoro che stiamo facendo, che la regione Toscana sta facendo e Arti in particolare in questi primi mesi. Inizia una fase nuova, una fase importante per il lavoro e per la formazione del lavoro perché grazie alla collaborazione con il Ministero del Lavoro e con Ampal ma anche alle risorse che arriveranno nel Fondo Sociale Europeo noi dovremmo avere attenzione e cura sui territori per incrociare la domanda e l'offerta. Il mercato del lavoro sta cambiando e bisogna essere capaci di incrociare le esigenze delle imprese e delle aziende con le esigenze dei lavoratori. Quindi una grande attenzione anche alla concertazione con le amministrazioni comunali, con le associazioni di categoria, con le associazioni sindacali. È un momento importante quindi anche sui vari territori sono stati realizzati dei protocolli nelle varie province che mettano insieme tutti questi soggetti affinché si possa davvero calibrare sulle esigenze di ciascun territorio che è sicuramente diverso rispetto alle varie province della Toscana e quindi poter dare una risposta alle esigenze del lavoro ma soprattutto creare corsi di formazione che siano aderenti il più possibile a quelle che sono le necessità dei lavoratori ma anche delle imprese artigiane e imprenditoriali. Sicuramente l'Arti è oggi un'agenzia regionale chiave se non altro perché sono state investite sulle politiche sociali del lavoro tantissime risorse, si parla di 200 milioni da ripartire a livello regionale a partire dal piano nazionale di ripresa di silenza. Naturalmente tutto questo impone un monitoraggio attento rispetto a quello che è un costo soprattutto che è legato all'aumento del personale, si parla in Toscana di circa 1.058 unità che verranno assunte nell'ambito del 2023. Ora noi non possiamo pensare che il lavoro lo trova chi viene assunto in Arti perché poi questo diventa il paradosso e questo ulteriore paradosso può essere anche quello per cui oggi di fronte a una necessità di snellire soprattutto il rapporto tra domande e offerte, di trovare un raccordo molto speso tra ciò che chiedono le imprese e anche un lavoro qualificato perché non dimentichiamoci che in Toscana c'è anche l'emergenza del cosiddetto lavoro povero. Ecco tutti questi dati messi insieme ci impongono un monitoraggio costante e attento su come vengono spese le risorse a partire dalla formazione e dalle politiche attive e soprattutto diciamo oggi anche alla luce della riforma sacrosanta del dedito cittadinanza si porrà davvero il tema di formare ancora meglio quei profili professionali che appunto oggi vengono richiesti dalle imprese per non parlare poi di tutto quello che è l'ambito dell'occupazione giovanile del quale poco si accenna. Molto generica anche la parte sui programmi, vengono rifinanziati alcuni programmi ad esempio che riguardano lavoratori che sono stati colpiti da crisi aziendali però è un settore che naturalmente meriterebbe una maggiore attenzione e ripeto anche un maggior monitoraggio da parte del Consiglio regionale. Voto positivo da parte di Italia Viva, un'agenzia che cerca ovviamente di lavorare rispetto all'impiego ovviamente del personale, la ricerca dell'occupazione, della prima occupazione il ricollocamento delle persone, il tentativo ovviamente di migliorare la qualità della vita della persona e trova la parte nostra massimo sostegno è la logica del lavoro che deve ovviamente nobilitare l'uomo e non quella dei sussidi al motivo per il quale noi abbiamo sempre e convintamente investito sulle politiche di arti che sono delle politiche di carattere regionale che poi tengono conto anche delle impostazioni di carattere nazionale. L'agenzia fa sicuramente un grande lavoro per tutto quello che riguarda le pratiche amministrative che spesso i disoccupati o coloro che hanno lavoro stagionale devono fare, si pensi al grande lavoro che sostengono ogni settembre quando tutti i lavoratori stagionali vanno a farne la richiesta e spesso si trovano appunto tutti questi dipendenti a trovarsi ad affrontare una grande quantità di persone con difficoltà anche logistiche per riuscire a soddisfare tutti i bisogni che ci sono. Da un certo punto di vista le esigenze maggiore è quello di colmare il mismatch, cioè l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e ancora su questo si fatica perché il problema è strutturale, non attribuibile ad arti. Se si pensa che in altri stati come l'Olanda, la Germania si hanno quattro volte tanto i dipendenti per le agenzie e dell'impiego si capisce anche il valore che viene dato a questo tentativo di incontrare la domanda e l'offerta. In questo la Regione, a parte appunto mettere a disposizione del personale, altro non fa perché c'è necessità di un dialogo costante con le imprese, cercare di rifare più formazione, formazione che venga ben individuata su quelle che sono le esigenze e la Regione Toscana da questo punto di vista non è tra le più virtuose. Il diritto all'oblio oncologico al centro di una mozione approvata all'unanimità dall'Aula, l'atto di cui è primo firmatario Stefano Scaramelli di Italia Viva, chiede il riconoscimento del diritto di parità di trattamento e non discriminazione delle persone guarite da patologie oncologiche. Chiede un impegno fattivo della Regione Toscana nei confronti del Governo e del Parlamento perché la questione dell'oblio oncologico venga approvata anche a livello nazionale, è un'opportunità per consentire alle persone che hanno sconfitto il tumore nella propria vita di avere un accesso libero a molti servizi, in particolar modo bancari, assicurativi, pensiamo all'adozione di un figlio, cioè il fatto di aver sconfitto un tumore deve riportare, la scienza lo dimostra, all'anno zero fondamentalmente, rigenerà una persona non soltanto perché vince una sfida e molte volte poi si trova limitata nell'accesso di alcune funzioni. La legge deve liberare le persone che hanno sconfitto il tumore da questi vincoli, da questi cavilli, penso la questione più importante sia quella delle adozioni ma non solo, anche l'accesso a un mutuo così come a una prestazione assicurativa, è una persona che hanno superato una malattia e come tali tornano a essere ovviamente sane e come tali devono avere diritto come le altre a poter accedere a dei servizi che sono di natura ovviamente civile e quindi serve un impianto normativo nazionale, una battaglia che a livello nazionale sta portando avanti Maria Elena Boschi e noi stiamo sostenendo come regione toscana. Diciamo che questa mozione che è stata emendata, proposta stavolta da Scaramelli, è una mozione che viene ripresentata a distanza di quasi un anno perché era stata presentata l'anno scorso dal Partito Democratico, è stata da tutti all'unanimità, su un tema molto delicato e quindi per proporre una legge in Parlamento che ancora non c'è e che darebbe il diritto dell'oblio alle persone malate oncologici. Questo è un tema sensibile perché? Perché i malati oncologici ancora oggi hanno difficoltà nell'accensione dei muti, nell'assicurazione, nelle adozioni, in quella che è la vita reale di tutti i giorni e quindi anche nella vita lavorativa. Riteniamo che questa legge sia una legge di dignità per queste persone che una volta guarite hanno il diritto di riscattarsi e di vivere una vita normale come tutte le persone che sono guarite. L'avevamo presentata allo scorso Governo e allo scorso Parlamento, l'abbiamo riproposta anche adesso affinché si smuovano a cosa perché il tema è davvero un grande tema che tocca tanto e tantissimo. Ed è tutto, questa era la nostra ultima intervista, grazie per averci seguito. Cronache e commenti torna la prossima settimana. Cronache e commenti torna la prossima settimana.